Mi allenavo tutti i giorni con la prima squadra, ero fisso con la prima squadra, però poi il momento, la situazione, quando arrivo alla domenica, ero fuori. Fatto sta che arriva il periodo di gennaio, che c'era il mercato e qualche offerta è arrivata per me. E io era al punto di dire, nel senso, qua c'è poco spazio, quindi magari fare un po' di esperienze in giro mi fa bene, soprattutto per giocare, per crescere. E poi è arrivata la partita di Bergamo, mi ricordo, dove l'Inter ha perso 3-1 e io la settimana prima... L'Inter ha perso il primo tempo 3-0 e ha vinto il secondo 1-0. Sì, ha vinto 1-0, ok. Però mi ricordo quella partita lì perché una settimana prima io andai a giocare con la primavera e il mister mise terzino-sinistro. E io ho detto terzino-sinistro, io non ho mai fatto terzino-sinistro. Però, io ho detto, l'importante è giocare. Posizioni nuove si imparano sempre, quindi giocai testino-sinistro e la settimana dopo di Bergamo, partita Coppa Italia con la Roma, il mister mischierò titolare. Dal primo minuto. Dal primo minuto. E da quella partita lì, titolare campionato e poi in Champions League, contavedi finale col Manchester. E poi quella stagione lì giocai fino alla fine e vincemmo il mio primo scudetto con la prima squadra e penso che quell'anno lì sia stato un anno, anche se l'anno dopo vincemmo il triplete, però quell'anno lì per me è stato l'anno indimenticabile anche perché fu chiamato subito dall'Under 21. Dopo l'Under 21, a fine stagione, in prima squadra con Marcello Lippi. Nazionale maggiore. Nazionale maggiore. E quindi ci sono stati tutti gli obiettivi in quell'anno lì. Anche perché l'anno del triplete è un anno indimenticabile, però ho avuto praticamente... Sono partito all'inizio, ho giocato le prime partite, ci alternavamo io e Kivu e dopo sono stato operato al ginocchio e quindi ho dovuto saltare tutto il resto della stagione praticamente. Però comunque mi sono sempre sentito parte di un gruppo, ho giocato anche i gironi contro il Barcellona, quindi di Champions e quindi niente, alla fine sono arrivati tre titoli importantissimi, Scudetto, Champions e Coppa Italia. E poi successivamente il mondiale per club è stata la ciliegina sulla torta. La manita, la famosa manita. Che poi sono entrato anche lì nella finale.